Consegnato ad Asti il nono treno POP previsto dal contratto del servizio ferroviario metropolitano di Torino, sottoscritto dalla Regione Piemonte con Trenitalia. Va così a completare il rinnovo della flotta regionale piemontese. Una bella giornata, una giornata che conclude un percorso parziale con 9 POP acquistati nel giro di pochi mesi, altri 23 ROC che arriveranno nel corso dei prossimi, per migliorare il servizio ferroviario metropolitano, per dare più comodità alle persone, più sicurezza perché questi treni sono videosorvegliati, servizi maggiori perché ci sarà la possibilità di portare le bici e già la predisposizione per le bici elettriche, quindi finalmente cominciamo a investire nuovamente sul servizio del nodo di Torino e come sappiamo oggi di Asti, di tutti i comuni che gli gravitano intorno, credo che ci faremo trovare pronti con le sfide del post-Covid. Il contratto della durata di 15 anni garantisce un importante investimento da parte di Trenitalia per 290 milioni di euro, al fine di un rinnovamento totale del materiale rotabile con 32 nuovi treni, 9 POP e 23 ROC. La consegna dei nuovi treni POP è stata avviata a gennaio e completata in anticipo di oltre un anno rispetto ai tempi definiti nell'accordo.